Con l'associazione Ardita balleremo lo stile Bollywood che sono le danze indiane moderne che derivano direttamente dalla cinematografia indiana. Non so se mi avete visto dei film indiani, ecco noi rappresentiamo i balli che vengono svolti durante i film. Ogni coreografia racconta una storia, quindi ogni gesto racconta una storia, unico coreografia racconta una storia ed è molto importante tutta la parte della gestualità e della comunicazione non verbale. Siamo presenti all'Ardita da quest'anno, abbiamo il primo corso, quindi novità assoluta. Ci trovate a Nervi il giovedì dalle 18 alle 19 con l'Ardita. Il corso con l'Ardita esiste da quest'anno e le ragazze si esibiranno adesso per la prima volta e speriamo di continuare anche l'anno prossimo. Invece su Genova io insegno danze Bollywood e Bangra dal 2012.